Non c'è dubbio che Milan-Lazio è una delle partite più interessanti, se non forse la più importante del prossimo turno. Da una parte c'è un Milan in crescita che Gattuso sta costruendo, plasmando e che sta dando solidità a una squadra che ha anche il conforto dei risultati. E dall'altra una Lazio che vola splendidamente terza, allungato sull'Inter e la Roma e dà sempre la sensazione di grande solidità. L'importante sarà se potrà giocare o no immobile, ma indipendentemente dalla presenza dell'attaccante bianco-celeste, la squadra di Inzaghi ha dato dimostrazione di poter essere in grado di avere più soluzioni offensive, anche senza il bomber di questo campionato. Guardando le quote sono tutte molto interessanti e possibilmente, dovendo scegliere, il pareggio potrebbe essere un risultato probabile di questo match e sarà un confronto aperto dove importanti saranno le difese, importante sarà l'equilibrio che Gattuso e Inzaghi riusciranno a dare. È un test significativo sia per il Milan che per la Lazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.